La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Eccomi sono io, Deb, un aspirante modella. Ma poi sono morta. Credevo di andare dritta in paradiso, Ma per uno strano incidente mi sono svegliata nel corpo di un'altra persona. E adesso? Sono Jane, un'avvocatessa molto impegnata e con un'assistente personale. Ho una vita nuova, un guardaroba nuovo e le uniche persone che conoscono il mio segreto sono la mia amica Stacy e Fred, il mio angelo custode. Si dice che ci sia una buona ragione per tutto. Ragazzi, spero proprio che sia vero. Drop the Addiva, questa sera alle 21.30, sulla 7D. La vita è la storia più bella e solo tu sai raccontarla. Pandora, gioielli in argento che raccontano la tua estate. Scopri la nuova collezione a partire da 29 euro. Ti aspettiamo in negozio su Pandora.net Che si tratti di mutui investimenti, servizi assicurativi e digitali, Wellbanking è dare valore al benessere del nostro pianeta, di chi lavora con noi e dei nostri clienti. Credemi, il Wellbanking fa parte di noi. Credemi, il Wellbanking people. Le carezzi ci fanno sentire amati e protetti a qualsiasi età. Per me che ho perdite d'urina, Lina Specialist ha creato Dermaprotection. Arricchito con crema con ossido di zinco, aiuta a proteggere la pelle dalle irritazioni e avvolge il corpo come una carezza. Solo in farmacia. Maxi Bon Waffle Blonde Carmen è sorprendente. È Maxi Bon! Orio Center. Dei nostri allevatori di fiducia. Fattorie Osella. Nient'altro che bontà. Prova anche la nuova Robiola Osella Leggera. Il gusto di sempre, con il 30% di grassi in meno. Anzi, ma che è? Uno vale l'andro. Ma che è il vero affare, Dash Power. Rimuove le macchie anche a freddo. Così risparmi fino al 60% di elettricità. Ma mappelo, che pulito. Che power! Federico, e se ti dicessi che posso offrirti due anni di tranquillità con Enel Energia? E come? Conscegli oggi l'offerta che ti dà il 30% di sconto sul prezzo della componente energia bloccato per due anni. Chiama il numero verde o vai su enel.it. Gira la nuova Bexam Filtered e scopri che per sentire di più hai bisogno di meno. Ingredienti 100% naturali e nient'altro. Bexam Filtered. La bevi. La senti. Oni con micosi. Oni la care. Penetra in profondità ed elimina i funghi. Con un effetto di lunga durata. Anche sotto il tuo smalto preferito. Per unghie sane e belle grazie al triplo effetto. E da oggi per il piede ed atleta. Oni la care crema. Con triplo effetto. Da Galderma. Giallo piccolo e vivace. Il suo gusto tutti tace. Ci mettiamo il nostro affetto coltivando con rispesso. Sposa bene il tuo palato. Gusto dolce assicurato. Fai il tuo piatto un po' più audace. Questo è il mais che ci piace. Scopri il mais Bonduelle. Naturalmente dolce e senza residuo di pesticidi. Bonduelle. Il mondo che ci piace. Ok Lucia, ti piace il giallo? Molto giusto. Molto giallo. Il giallo perfetto. Incredibilmente giallo. Aspetta, ma se fosse blu? About you. The joy of exploring. Facevo fatica ad andare in bagno. Cercavo un rimedio non aggressivo. Ho scoperto Dulcosoft. Utilizza l'acqua nell'intestino per ammorbidire le feci dure favorendone il transito. Dulcosoft. Libera delicatamente. E per una doppia azione contro stitichezza e gonfiore puoi provare Dulcosoft irregolarità e gonfiore. Hai mai provato la sensazione di Nivea Soft sulla tua pelle? È delicata, come la rugiada del mattino. Fresca, come l'acqua di una cascata. Leggera, come la pioggia d'estate. Lascia la tua pelle incredibilmente morbida. Così idratante, così fresca, così Nivea Soft. Ogni posto è perfetto, se poi acchiappa un bel premietto. Felix! Che spasso! La vita da gatto. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. I remember doing a time war. It's just a jump to the left. Hanno trovato il cadavere di una ragazza. Siete pronti a risolvere una serie di casi diabolici architettati dalla regina del giallo Agatha Christie? Abbiamo a che fare con un grande criminale. Questo non lo so, Lampion, ma un buon poliziotto deve sempre giocare d'anticipo. Per l'orario dobbiamo aspettare il referto. Diffidi da ciò che sembra troppo strano. Little Marders. Giovedì alle 21.30 sulla 7D. Nasce Unipol Move. Finalmente l'alternativa nel mondo del telepedaggio. Provalo gratis i primi sei mesi, poi un euro al mese. In tutte le agenzie Unipol Sai e su unipolmove.it. Unipol Move. Muoversi ostre. Tutto ve l'ho messo. Sbaglio se un po' giù di tono. Vero. Ora però mi ricarico con acqua vitamin. Con un sacco di vitamine. E senti che gusto. Vitaminizzata. San Benedetto. My secret. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Eccomi, sono io, Deb. Un'aspirante modella. Ma poi sono morta. Credevo di andare dritta in paradiso. Ma per uno strano incidente mi sono svegliata nel corpo di un'altra persona. E adesso? Sono Jane, un'avvocatessa molto impegnata. E con un'assistente personale. Ho una vita nuova. Un guardaroba nuovo. E le uniche persone che conoscono il mio segreto sono la mia amica Stacy. E Fred, il mio angelo custode. Si dice che ci sia una buona ragione per tutto. Ragazzi, spero proprio che sia vero. Drop the Addiva. Tra poco, sulla 7D. La vita è la storia più bella. E solo tu sai raccontarla. Pandora. Gioielli in argento che raccontano la tua estate. Scopri la nuova collezione a partire da 29 euro. Ti aspettiamo in negozio su Pandora.net. Se ami Kinder Bueno, preparati alla rivoluzione. Filadelfia ci mette sempre quel sorriso in più. Filadelfia. Gustati il momento. Orio Center. Orio Center. miscelati con cura e la bontà del cacao e del malto, un gusto unico per ritrovare lo slancio a colazione. Kinder Colazione Più, al mattino chi ci dà di più? Non rinunceresti mai alla tua abbronzatura e faresti davvero di tutto, ma proteggendo la pelle, vero? Scopri Nivea Sun Protect & Bronze, protegge dai raggi UV e attiva la naturale produzione della melanina della pelle. Per un'abbronzatura più intensa, nuovo Nivea Sun Protect & Bronze. Dedicato a chi doveva dire sempre no, a chi si sentiva a disagio, a chi sceglie ColiLenIBS per calmare mal di pancia frequente, gonfiore, diarrea o stitichezza senza sostanze artificiali. ColiLenIBS, dalla bocca. Il calore del ghiaccio. Terre d'Hermesse, usci voi. Sono loro i più ricercati dell'estate. I freschi Kinder. È noi! Kinder Choco Fresh, ricercato per un piacere fresco e sfizioso. Delicata crema alla nocciola, soffice crema al latte in un croccante cioccolato. I freschi Kinder. Stanno al fresco nel banco frigo. Una cosa è certa, ci sono giornate davvero dure. Ma con Regina Carta Camomilla hai la certezza di qualcosa di delicato per te ogni giorno. Regine. Paper for people. L'America ha scoperto l'Italia. E è arrivato il nuovo Italian Kings. Carne da allevamenti italiani, golosa cipolla rossa e glassa all'aceto balsamico di Modena IGP. De Cipolla Rossa Burger. No! Hey ragazzi, niente paura con Advantix. Con Advantix puoi proteggerlo dai parassiti e anche dal rischio di trasmissione di leishmaniosi e dalle larve di pulce in casa. Anche in confezione da sei pipette. Advantix. Eccessiva sudorazione? Stanchezza? MGKVis. Il primo con tre sali di magnesio organici altamente assimilabili. Faivis di energia. Dove l'ho messo? Sbaglio se un po' giù di tono. Vero. Ora però mi ricarico con acquavitamin. Mmm, con un sacco di vitamine. E senti che gusto! Vitaminizzata. San Benedetto. My secret. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Asciuga. Tu hai ispirato la mia cucina. Quella più sperimentale. Esco per le strade, tutta nuda, abbraccio un cavallo. Sì, ma tu non capisci niente, sei un uomo basico. Che basico? Tu sposi un traditore. Senti, io non... Perché quello è un traditore, tradirà anche te. Perché non me ne fega niente che ti sposi. Monica, si sposa. Io amo te, cazzo, lo capisci? A un certo punto le donne si vogliono semplicemente sposare. Chi c'è, c'è. Chi c'è, c'è. Chi c'è, c'è. Per il ciclo a spasso nel cinema Un film di Simona Izzo Tutte le donne della mia vita Mercoledì, alle 21.30 Sulla 7D Qual è la forma perfetta? Quella sempre uguale a se stessa, ma sempre diversa. Quella dove puoi mettere dentro un mondo. Quella che racchiude un gusto sorprendente. Goditi il piacere rotondo di Raffaello Ice Cream. Deliziosamente unico. Raffaello Ice Cream Il gusto della perfezione. Con la convenienza di Expert risparmi anche molto tempo. E oggi non perderti il nostro scontatutto. La bontà nasce da semplici gesti d'amore come quelli che noi di Fattorie Osella facciamo per offrirti un formaggio dal gusto unico senza conservanti e con il latte dei nostri allevatori di fiducia. Fattorie Osella Nient'altro che bontà. Prova anche la nuova Robiola Osella Leggera Il gusto di sempre con il 30% di grassi in meno. Fuori casa come puoi avere più protezione dai virus? Con il nuovo Amukina Spray disinfettante per oggetti, ambienti e tessuti più Amukina Gelix Germ per le mani. Più protezione al lavoro più protezione nel tempo libero più protezione in viaggio. Un'igienizzante rimuove in parte virus e batteri? Amukina Spray e Amukina Gelix Germ sono disinfettanti e li eliminano fino al 99,9%. Da Amukina più protezione quando serve. Sono presidi medico-chirurgici leggere attentamente le istruzioni d'uso da Angelini Pharma Ti impegni tanto per avere una bocca sana Ma il tuo dentifricio si impegna quanto te I dentifrici comuni proteggono Il dentifricio Oral B va oltre la semplice protezione Molti di noi soffrono di problemi alle gengive e allo smalto Il dentifricio Oral B protegge le gengive e aiuta anche a riparare lo smalto Così da prevenire i problemi più curati dai dentisti Oral B gengive e smalto pro-repair Oltre la protezione Sono loro i più ricercati dell'estate I freschi Kinder È lei! Kinder fetta al latte ricercata per un piacere fresco e semplice crema al latte una goccia di miele e morbido pan di spagna I freschi Kinder stanno al fresco nel banco frigo Una cosa è certa ci sono giornate davvero dure Ma con Regina Carta Camomilla hai la certezza di qualcosa di delicato per te ogni giorno Regina Paper for People Le persone non resistono alla mia deliziosa dolcezza Sono Kiwi Zespri Prendili Corri Corri a scoprire il loro gusto irresistibile Zespri Il segreto per una buona giornata è un buon inizio Special K Iniziare bene Stare bene Gira la nuova Bexam Filtered e scopri che per sentire di più hai bisogno di meno Ingredienti 100% naturali e nient'altro Bexam Filtered La bevi La senti Visto il bollino verde Parliamo di sostenibilità Comprando o vendendo oggetti di seconda mano allungate la vita di un prodotto e contribuite ad evitare le emissioni di CO2 legate alla produzione di un nuovo bene Tutte le volte che userete subito la natura vi ringrazierà Sostieni la sostenibilità subito Maximon Waffle Blonde Caramel è sorprendente è Maxi Bon Eccessiva sudorazione Stanchezza MGK Bis il primo con tre sali di magnesio organici altamente assimilabili Fai Bis d'Energia E quindi chiederà Dove l'ho messo? Sbaglio se un po' giù di tono Vero Ora però mi ricarico con acqua vitamin Con un sacco di vitamine E senti che gusto Vitaminizzata San Benedetto My Secret Hanno trovato il cadavere di una ragazza Siete pronti a risolvere una serie di casi diabolici architettati dalla regina del giallo Agatha Christie? Abbiamo a che fare con un grande criminale Questo non lo so Lampion Ma un buon poliziotto Deve sempre giocare d'anticipo Per l'orario dobbiamo aspettare il referto Diffidi da ciò che sembra troppo strano Little Murder Giovedì alle 21.30 Sulla 7D Il cono di croccante biscotto cookie Segui il tuo lato extrema Al mattino ognuno ha i suoi tempi Meno male che prima o poi Arriva quel qualcosa in più di Kinder Colazione Più 5 cereali miscelati con cura E la bontà del cacao e del malto E la bontà del cacao e del malto Un gusto unico Per ritrovare lo slancio a colazione Kinder Colazione Più Al mattino Chi ci dà di più? Ah, quanto è bello stare bene Leggerezza Equilibrio Quella cosa che non ti spieghi Ma sa di buono Quella cosa che ti fa dire Come si chiama? Milk Fear Calcio, vitamine e tanti fermenti attivi Senti le proprietà benefiche? Milk Benessere in una parola Nei tuoi momenti da favola Come? Ah, ecco Ehi O nelle tue gene Rilass Scusate Vado via Filadelfia ci mette sempre quel sorriso in più Filadelfia Gustati il momento Sono loro i più ricercati dell'estate I freschi Kinder È lui! Kinder Choco Fresh Ricercato per un piacere fresco e sfizioso Delicata crema alla nocciola Soffice crema al latte In un croccante cioccolato I freschi Kinder Stanno al fresco nel banco frigo La vita è la storia più bella E solo tu sai raccontarla Pandora Gioielli in argento Che raccontano la tua estate Scopri la nuova collezione A partire da 29 euro Ti aspettiamo in negozio E su Pandora.net Una cosa è certa Ci sono giornate davvero dure Ma con Regina Carta Camomilla Hai la certezza di qualcosa di delicato per te ogni giorno Regine Paper for People Ogni estate migliaia di aridi invadono le spiagge Il contatto con l'acqua scatena un... Lo spostamento del telo li tormenta Non abbandonarli Offri loro un estate Rinfrescali con il suo gusto unico La vita è troppo bella per fare l'arido Goditela con estate E se il caldo è insopportabile Prova estate Ice Il gusto unico di estate Giacciato Da oggi è anche menta lime L'America ha scoperto l'Italia E è arrivato il nuovo Italian Kings Carne da allevamenti italiani Golosa cipolla rossa E glassa all'aceto balsamico di Modena IGP De Cipolla Rossa Burger Prurito o bruciore nelle parti intime? Potrebbe essere candida Gino Canisten Crema Per un rapido sollievo dalla candida E dai suoi sei sintomi Gino Canisten Alleato contro la candida C'è una forma da sempre simbolo di perfezione È perfetta perché non ha angoli Non ha un inizio Né una fine È perfetta perché ha un gusto inimitabile Goditi il piacere rotondo di Ferrero Rocher Ice Ice Cream Deliziosamente unico Ferrero Rocher Ice Cream Il gusto della perfezione Eccessiva sudorazione? Stanchezza? MGKVis Il primo con tre sali di magnesio organici Altamente assimilabili Fai Vis d'energia Dove l'ho messo? Sbaglio se un po' giù di tono Vero Ora però mi ricarico con acqua vitamin Con un sacco di vitamine E senti che gusto Vitaminizzata San Benedetto My Secret Asciuga Tu hai ispirato la mia cucina Quella più sperimentale Esco per le strade Tutta nuda Abbraccio un cavallo Sì ma tu non capisci niente Sei un uomo basico Ma che basico? Tu sposi un traditore Senti io non Perché quello è un traditore Tradirà anche te Perché non me ne fega niente Che ti sposi Monica Si sposi Io amo te Cazzo lo capisci? A un certo punto Le donne si vogliono Semplicemente sposare Chi c'è c'è Chi c'è c'è Chi c'è c'è Per il ciclo A spasso nel cinema Un film Di Simona Izzo Tutte le donne Della mia vita Mercoledì Alle 21.30 Sulla 7D A Sofia piace tuffare La mano nell'acqua Delle fontane E le piace schiacciare La gobetta del plum cake Prima di dividerlo Come quando era bambina Solo yogurt italiano E tutta la morbidezza Di sempre Plum cake umulino bianco Cerca la tua felicità Rocco Tu stai bene Col blu Sì Decisamente blu Tutto blu Mezzo blu Blu con blu Oppure Verde About you The joy of exploring Nei tuoi momenti Da favola Come? Ah Ecco Ehi O nelle tue cene Rilassi Scusate Vado via Filadelfia Ci mette sempre quel sorriso in più Filadelfia Gustati il momento Brown Silk Peel 9 Flex Si adatta alle tue esigenze Si adatta ai tuoi tempi Si adatta alle tue curve Rimuovendo i peli Fino a tre volte più corti Rispetto alla ceretta Per una pelle liscia A lungo Scegli l'epilazione Che si adatta a ti Solo adesso Fino a 50 euro Di cashback L'America Ha scoperto l'Italia E è arrivato il nuovo Italian Kings Carne da allevamenti italiani Golosa cipolla rossa E glassa l'aceto balsamico di Modena IGP De Cipolla Rossa Burger È troppo? Non ho più l'età? E chi lo decide? Nuove Tena Silhouette Le nostre prime mutandine per perdite urinarie Con la vita ondulata come vera biancheria intima Mia cara Lo stile non ha limiti di età Sembra biancheria intima Protegge come Tena Svegli il tuo laptop Che bene si sta Ho chiuso tutti i file Che bene si sta Non resta nulla da fare Se non riposare Che bene si sta Onycomicosi Onyla Care Penetra in profondità Ed elimina i funghi Con un effetto di lunga durata Anche sotto il tuo smalto preferito Per unghie sane e belle Grazie al triplo effetto E da oggi per il piede ed atleta Onyla Care Crema Con triplo effetto Da Galderma Fuori casa Come puoi avere Più protezione dai virus Con il nuovo Amuchina spray disinfettante Per oggetti, ambienti e tessuti Più Amuchina Gelix Germ Per le mani Più protezione al lavoro Più protezione nel tempo libero Più protezione in viaggio Un igienizzante rimuove in parte virus e batteri Amuchina spray e Amuchina Gelix Germ Sono disinfettanti E li eliminano fino al 99,9% Da Amuchina Più protezione quando serve Sono presidi medico-chirurgici Leggere attentamente le istruzioni d'uso Da Angelini Pharma Nell'angolino misterioso C'è un tesoro appetitoso Hai fame Felix? Che spasso! La vita da gatto Ah, quanto è bello stare bene Hai presente quando ti svegli e sei già in forma? Sai quella sensazione di benessere Quando sai di aver fatto la cosa giusta Tipo così E ti senti in equilibrio con il mondo Quella sensazione che ti fa dire Subito dopo E poi ancora Insomma, quella cosa a cui prima non riuscivi a dare un nome Ora ne ha uno Milk 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 Come? Milk Yogurt da bere Kefir Pro Milk Benessere in una parola Il piacere è il tuo migliore alleato nello sport E Fitness ti regala ogni mattina Il piacere unico dei suoi cereali gustosi e nutrienti Porta il piacere del cioccolato e la croccantezza dei cereali Sempre con te Con le barrette Fitness Innamorati delle tue labbra al primo tocco Con il nuovo rossetto Red Touch da Deborah Milano Texture morbida con olio di rosa nutriente Ultra comfort Intensamente matt Applicazione precisa No transfer Long lasting Nuovo rossetto Red Touch da Deborah Milano Love at first touch Se ami Kinder Bueno Preparati alla rivoluzione Fresca come un nuovo gelato mai provato Potente come l'intensità della nocciola Emozionante come un'esperienza unica Una rivoluzione che ti conquisterà Ancora e ancora Nuovi gelati Kinder Bueno La rivoluzione sa di bueno Eccessiva sudorazione Stanchezza MGKVis Il primo con tre sali di magnesio organici altamente assimilabili Fai vis di energia Quindi ci siamo sbagliati Little Marders Giovedì alle 21.30 Sulla 7D La vita è la storia più bella E solo tu sai raccontarla Pandora Gioielli in argento Che raccontano la tua estate Scopri la nuova collezione a partire da 29 euro Ti aspettiamo in negozio su Pandora.net Ogni estate migliaia di aridi invadono le spiagge Il contatto con l'acqua scatena un Lo spostamento del telo li tormenta Non abbandonarli Offri loro un estate Rinfrescali con il suo gusto unico La vita è troppo bella per fare l'arido Goditela con estate E se il caldo è insopportabile? Prova estate Ice Il gusto unico di estate Giacciato Da oggi anche menta lime Tè Best Una cosa è certa Ci sono giornate davvero dure Ma con Regina Carta Camomilla Hai la certezza di qualcosa di delicato per te Ogni giorno Regina Paper for people Imprimiamo in ogni chicco il profumo del caffè di Napoli E per la prima volta lo custodiamo in capsule in alluminio Per avvolgere le vostre case con un aroma intenso Kimbo Una tazza di aroma Una tazza di Napoli Tra noi donne una su due ha perdite di urina quando ride Nuovo Vagisil Incontinence Care aiuta a prevenire l'odore E allevia le irritazioni fino a 24 ore Vivi, ama, ridi anche in caso di perdite Nuovo Incontinence Care approvato da Fincop A casa mia non piove affatto Felix Che spasso la vita da gatto Parfum Che si tratti di mutui investimenti, servizi assicurativi e digitali Well Banking è dare valore al benessere Del nostro pianeta, di chi lavora con noi e dei nostri clienti Credemi, il Well Banking fa parte di noi Credemi, Well Banking People Sono appassionata di sostenibilità da molti anni Oggi sviluppo per Amazon progetti di energia rinnovabile Come questo, uno dei nostri più grandi impianti fotovoltaici in Europa Sono orgogliosa di contribuire a un futuro sostenibile C'è una forma da sempre simbolo di perfezione È perfetta perché non ha angoli Non ha un inizio Né una fine È perfetta perché ha un gusto inimitabile Goditi il piacere rotondo di Ferrero Rocher Ice Cream Deliziosamente unico Ferrero Rocher Ice Cream Il gusto della perfezione Alla Copp la tua spesa vale di più Con giorni più buoni per una spesa di almeno 15 euro Hai 5 euro di buono che prendi e usi su tutti i prodotti Copp la settimana dopo La Copp sei tu Facevo fatica ad andare in bagno Cercavo un rimedio non aggressivo Ho scoperto Dulcosoft Utilizza l'acqua nell'intestino per ammorbidire le feci dure Favorendone il transito Dulcosoft libera delicatamente E per una doppia azione Controstitichezza e gonfiore Puoi provare Dulcosoft irregolarità e gonfiore Al mattino ognuno ha i suoi tempi Meno male che prima o poi Arriva quel qualcosa in più di Kinder Colazione Più 5 cereali miscelati con cura E la bontà del cacao e del malto Un gusto unico Per ritrovare lo slancio a colazione Kinder Colazione Più Al mattino chi ci dà di più Eccessiva sudorazione Stanchezza MgKbis Il primo con tre sali di magnesio organici Altamente assimilabili Fai bis di energia Tutto ve l'ho messo Sbaglio se un po' giù di tono Vero Ora però mi ricarico con acqua vitamin Con un sacco di vitamine E senti che gusto Vitaminizzata San meredetto My secret Asciuga Tu hai spiegato la mia cucina Quella più sperimentale Esco per le strade Tutta nuda Abbraccio un cavallo Sì ma tu non capisci niente Sei un uomo basico Che basico? Tu sposi un traditore Senti io non Perché quello è un traditore Tradirà anche te Che non me ne fega niente Che ti sposi Monica Si sposa Io amo te Cazzo lo capisci? A un certo punto Le donne si vogliono Semplicemente sposare Chi c'è c'è Chi c'è c'è Chi c'è c'è Per il ciclo A spasso nel cinema Un film Di Simona Izzo Tutte le donne Della mia vita Mercoledì Alle 21.30 Sulla 7D Nei tuoi momenti Da favola Come? Ah Ecco Ehi O nelle tue cene Rilass Scusate Vado via Filadelfia Ci mette sempre Quel sorriso in più Filadelfia Gustati il momento Le persone non resistono Alla mia deliziosa dolcezza Sono kiwi Zespri Prendili Corri Corri a scoprire Il loro gusto irresistibile Zespri Sono loro I più ricercati dell'estate I freschi Kinder È lei Kinder fetta al latte Ricercata per un piacere Fresco e semplice Crema al latte Una goccia di miele E morbido pan di spagna I freschi Kinder Stanno al fresco Nel banco frigo Enigmistica mia Ma anche tua Sua Loro Enigmistica mia Gioca Divertiti E rilassati In edicola Solo un euro Anche con nuovo Cairo Editore Fuori casa Come puoi avere Più protezione dai virus Con il nuovo Amuchina spray Disinfettante per oggetti Ambienti e tessuti Più Amuchina Gelix Germ Per le mani Più protezione al lavoro Più protezione nel tempo libero Più protezione in viaggio Un igienizzante Rimuove in parte virus e batteri Amuchina spray Amuchina Gelix Germ Sono disinfettanti E li eliminano Fino al 99,9% Da Amuchina Più protezione Quando serve Sono presidi medico-chirurgici Leggere attentamente Le istruzioni d'uso Da Angelini Pharma Quando stai bene nella tua pelle Non conta cosa indossi O quante ore hai dormito Per questo Leocrema ha pensato Una nuova formula Che idrata fino a 48 ore Perché tu possa stare bene Nella tua pelle Ancora di più Leocrema Amati nella tua pelle L'Italia più bella È su Bell'Italia In Edicola È su Instagram Spoleto La città che vive di arte Le chiese e i palazzi barocchi Di Ragusa e Ibra Le imponenti terme di Caracalla A Roma E in più Bell'Italia Ti regala lo speciale Dolomiti Estate Con tutti i consigli Per viverle al meglio Editoriale Giorgio Mondadori Per non fermarti mai Hai bisogno di energia Scegli ogni giorno Meritene Forza e vitalità Con 19 vitamine Minerali E le proteine Per rafforzare i muscoli Non contare gli anni Falli contare Con Meritene E per il tuo movimento Meritene Mobili Striplazione Per muscoli Ossa E articolazioni Chiedilo al tuo farmacista Wow Straordinario Oral-B Go electric Nuovo Xtreme Cookie cone Il cono di croccante Biscotto cookie Segui il tuo lato Xtreme Una cosa è certa Ci sono giornate davvero dure Ma con Regina Carta Camomilla Hai la certezza di qualcosa di delicato per te ogni giorno Regine Paper for people La notizia passa di bocca in bocca Come come? La bocca sarà sulla bocca di tutti Perché? A maggio parte l'Oral Cancer Day Oh finalmente! Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale Fumo Eccesso di alcol Cattive abitudini alimentari e igieniche Possono provocarlo Ma è uno dei più curabili se preso in tempo Niente acqua in bocca Fai un controllo dal tuo dentista Per prevenire il tumore del cavo orale Fondazione Andy Dai una mano alla salute della tua bocca Eccessiva sudorazione? Stanchezza? MGKVis Il primo con tre sali di magnesio organici Altamente assimilabili Fai vis di energia Hanno trovato il cadavere di una ragazza Siete pronti a risolvere una serie di casi diabolici Architettati dalla regina del giallo Agatha Christie? Abbiamo a che fare con un grande criminale Questo non lo so Lampion Ma un buon poliziotto Deve sempre giocare d'anticipo Per l'orario dobbiamo aspettare il referto Diffidi da ciò che sembra troppo strano Little Mardons Giovedì alle 21.30 Sulla 7D Il tuo gatto sterilizzato potrebbe perdere agilità Aiutalo a restare in forma con Ultima Sterilizzati Le nostre ricette sono preparate solo con ingredienti di alta qualità E da ora con i nuovi Ultima Fit & Delicious Deliziosi e teneri filettini Prenditi cura del suo peso a ogni pasto Ultima insieme per una vita migliore La vita è la storia più bella E solo tu sai raccontarla Pandora Gioielli in argento che raccontano la tua estate Scopri la nuova collezione a partire da 29 euro Ti aspettiamo in negozio su Pandora.net Gardenia è in edicola e su Instagram Un giardino all'italiana vicino a Firenze E un parco splendido con vista su Torino Le perenni con i colori dell'estate E in più con Gardenia puoi creare il tuo angolo verde di benessere Con la guida al giardino che fa stare bene Della Royal Horticultural Society Editoriale Giorgio Mondadori Sono appassionata di sostenibilità da molti anni Da quando mi sono trasferita a Siviglia 15 anni fa Oggi lavora lo sviluppo dei grandi progetti di Amazon Legati all'energia rinnovabile Come questo Uno dei nostri più grandi impianti fotovoltaici in Europa Trasforma la luce del sole in energia pulita Per alimentare le nostre attività Sono orgogliosa di dare il mio contributo Alla costruzione di un futuro sostenibile Ah sì, ma che è? Uno vale l'andro Ma che è il vero affare Dash Power Rimuove le macchie anche a freddo Così risparmi fino al 60% di elettricità Ma mappelo, che pulito Che power! Innamorati delle tue labbra al primo tocco Con il nuovo rossetto Red Touch da Deborah Milano Texture morbida con olio di rosa nutriente Ultra Comfort Intensamente matte Applicazione precisa No transfer, long lasting Nuovo rossetto Red Touch da Deborah Milano Love at first touch Migliorare la qualità della vita delle persone con autismo È la nostra priorità Per questo Fondazione Sospiro Vuole realizzare il primo centro nazionale Dedicato al trattamento delle psicopatologie nell'autismo Per costruire insieme un futuro migliore Dona il tuo 5 per 1000 e sostieni il centro Eccessiva sudorazione? Stanchezza? MGK Vis Il primo con tre sali di magnesio organici altamente assimilabili Fai Vis d'Energia Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo Ci attende un mercoledì ancora all'insegno di un po' di variabilità Nelle regioni settentronali Soprattutto tra pomeriggio e sera torneranno nuovi temporali tra Lombardia, Triveneto e Emilia Romagna Nel resto d'Italia situazione tranquilla con temperature ancora alte Solo qualche temporale sull'Appennino Ma vi anticipo tra giovedì e venerdì temperature in calo anche al centro-sud Per tutti i dettagli consultate l'app di Trebi Meteo Referendum abrogativi 2022 Domenica 12 giugno 2022, dalle 7 alle 23 Si vota sui seguenti 5 referendum abrogativi Quesito numero 1 Si chiede di abrogare le disposizioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità e decadenza automatica per cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanne per reati gravi Con l'eventuale abrogazione saranno i magistrati a valutare caso per caso se applicare l'interdizione dagli uffici pubblici Quesito numero 2 Si chiede di abrogare la reiterazione del reato dai motivi per i quali i giudici possono disporre la custodia cautelare in carcere o i domiciliari per una persona durante le indagini e quindi prima del processo Con l'eventuale abrogazione la custodia cautelare rimarrebbe per coloro nei confronti dei quali sussiste il concreto e attuale pericolo che commettano gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata Quesito numero 3 Si chiede di abrogare le norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono nella carriera dei magistrati il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa Con l'eventuale abrogazione il magistrato dovrà scegliere all'inizio della carriera la funzione giudicante o requirente per poi mantenere quel ruolo durante tutta la vita professionale Quesito numero 4 Si chiede di abrogare le norme in materia di composizione del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici, avvocati e professori universitari in materie giuridiche che ne fanno parte Con l'eventuale abrogazione i membri laici dei consigli giudiziari prenderebbero parte alle discussioni e alle votazioni che riguardano l'operato e la professionalità dei magistrati Tale potere, esercitato dal CSM sulla base delle valutazioni dei consigli giudiziari prevede ad oggi il coinvolgimento della sola componente dei magistrati con esclusione di quella laica Quesito numero 5 Si chiede di abrogare la norma che richiede ad un magistrato di procurarsi da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura al Consiglio Superiore della Magistratura Con l'eventuale abrogazione un magistrato potrà candidarsi senza alcun vincolo di numero di firme Come si vota? L'elettore avrà a disposizione 5 schede Si vota tracciando un segno sul rettangolo che contiene il sì oppure su quello che contiene il no Vota sì chi vuole abrogare le disposizioni sopradescritte Vota no chi vuole che rimangano in vigore le norme attuali Quorum Affinché il referendum sia valido dovrà esprimersi almeno il 50% più uno degli elettori Si vota presentando la tessera elettorale e un documento di identità Chi avesse smarrito la tessera elettorale o non l'avesse ricevuta la può richiedere all'ufficio elettorale del proprio comune Per tutte le informazioni riguardanti il voto domiciliare per elettori affetti da infermità e agevolazioni in favore degli elettori non deambulanti o portatori di handicap e per ulteriori approfondimenti www.interno.gov.it Oggi è ancora calde Tutto ve l'ho messo Sbaglio se un po' giù di tono Vero Ora però mi ricarico con acqua vitamin Con un sacco di vitamine E senti che gusto Vitaminizzata San Benedetto My Secret Asciuga Tu hai spiegato la mia cucina Quella più sperimentale Esco per le strade tutta nuda Abbraccio un cavallo Sì ma tu non capisci niente Sei un uomo basico Che basico? Tu lo spasi un traditore Senti io non... Perché quello è un traditore Tradirà anche te Che non me ne fega niente Che ti sposi Monica Si sposa Io amo te cazzo Lo capisci? A un certo punto Le donne si vogliono Semplicemente sposare Chi c'è c'è Chi c'è c'è Chi c'è c'è Per il ciclo a spasso nel cinema Un film di Simona Izzo Tutte le donne della mia vita Mercoledì alle 21.30 Sulla 7D L'Italia più bella è su Bell'Italia In edicola è su Instagram Spoleto La città che vive di arte Le chiese e i palazzi barocchi di Ragusa e Ibra Le imponenti terme di Caracalla a Roma E in più Bell'Italia ti regala lo speciale Dolomiti Estate Con tutti i consigli per viverle al meglio Editoriale Giorgio Mondadori Il tuo gatto sterilizzato potrebbe perdere agilità? Aiutalo a restare in forma con Ultima Sterilizzati Le nostre ricette sono preparate solo con ingredienti di alta qualità E da ora con i nuovi Ultima Fit & Delicious Deliziosi e teneri filettini Prenditi cura del suo peso a ogni pasto Ultima insieme per una vita migliore Sono appassionata di sostenibilità da molti anni Oggi sviluppo per Amazon progetti di energia rinnovabile Come questo, uno dei nostri più grandi impianti fotovoltaici in Europa Sono orgogliosa di contribuire a un futuro sostenibile Enigmistica mia, ma anche tua, sua, loro Enigmistica mia, gioca, divertiti e rilassati In edicola ha solo un euro Anche con nuovo Cairo Editore Anche in Italia migliaia di persone vivono in condizioni di estrema povertà Non riescono a pagare le cure mediche, il cibo, la casa I Fatebene Fratelli, con i progetti dell'AFMAL Aprono le porte degli ospedali e delle case di accoglienza Offrendo loro cure, riparo, pasti caldi e sostegno psicologico Aiutaci a migliorare la vita di queste famiglie Dona il 5 per 1000 all'AFMAL Il nostro lavoro, la nostra missione Eccessiva sudorazione, stanchezza MGKVis, il primo con tre sali di magnesio organici altamente assimilabili Faivis di energia Questo programma è presentato da Petra, dove la farina diventa arte Benvenuti a... Tutto veroissimo Sbaglio o sei un po' giù di tono Vero, ora però mi ricarico con acqua vitamin Con un sacco di vitamine E senti che gusto Vitaminizzata San Benedetto My Secret Hanno trovato il cadavere di una ragazza Siete pronti a risolvere una serie di casi diabolici Architettati dalla regina del giallo Agatha Christie? Abbiamo a che fare con un grande criminale Questo non lo so, Lampion Ma un buon poliziotto Deve sempre giocare d'anticipo Per l'orario dobbiamo aspettare il referto Diffidi da ciò che sembra troppo strano Little Murder Giovedì alle 21.30 Sulla 7D Ok Lucia, ti piace il giallo? Molto giusto Molto giallo Il giallo perfetto Incredibilmente giallo Aspetta Ma se fosse blu About you The joy of exploring Gira la nuova Bexham Filtered E scopri Che per sentire di più Hai bisogno di meno Ingredienti 100% naturali e nient'altro Bexham Filtered La bevi La senti Il calore del ghiaccio Terre d'Hermes Usi fuori Che si tratti di mutui investimenti Servizi assicurativi e digitali Wellbanking è dare valore al benessere Del nostro pianeta Di chi lavora con noi E dei nostri clienti Credemi Wellbanking fa parte di noi Credemi Wellbanking people Hai mai provato la sensazione di Nivea Soft sulla tua pelle? È delicata Come la rugiada del mattino Fresca Come l'acqua di una cascata Leggera Come la pioggia d'estate Lascia la tua pelle incredibilmente morbida Così idratante Così fresca Così Nivea Soft No! Hey ragazzi Niente paura con Advantix Con Advantix puoi proteggerlo dai parassiti E anche da rischio di trasmissione di leishmaniosi E dalle larve di pulce in casa Anche in confezione da sei pipette Advantix I pomodori Quelli buoni italiani Senza Cirio Senza Cirio Volevo dire Che non possono fare a meno di Cirio Perché Cirio era già Italia Quando l'Italia ancora non c'era Come natura crea Acquista Cirio E puoi vincere il romanzo Dedicato al genio di Francesco Cirio Pioniere della conserva di pomodoro in Italia Quando mi sento stanca Scelgo Carnidin Plus con Carnitina Il suo mix di vitamine e minerali Aiuta a combattere la stanchezza fisica e mentale Fai decollare la tua energia E quando il caldo ti affatica Prova Carnidin Fasta con Carnitina Magnesio Potassio E vitamine Fai decollare la tua energia Anche d'estate Il segreto per una buona giornata È un buon inizio Special K Iniziare bene Stare bene Una cosa è certa Ci sono giornate davvero dure Ma con Regina Carta Camomilla Hai la certezza di qualcosa di delicato per te Ogni giorno Regine Paper for People Quando il mal di testa ti butta giù Puoi provare Occhi Tasche Sulla testa Con una formula rilascio rapido Occhi Tasche può iniziare ad agire dopo 5 minuti E ha un doppio effetto Antidolorifico e antinfiammatorio Contro il mal di testa Sulla testa Con Occhi Tasche La vita è la storia più bella E solo tu Sai raccontarla Pandora Gioielli in argento Che raccontano la tua estate Scopri la nuova collezione A partire da 29 euro Ti aspettiamo in negozio Su Pandora.net Isalta il gusto di ogni ingrediente Scegli Ol'Italia La marca preferita dagli chef italiani Ol'Italia La tradizione di domani Eccessiva sudorazione? Stanchezza? MGKVis Il primo con tre sali di magnesio organici Altamente assimilabili Fai Vis d'Energia Questo programma è stato presentato da Petra Dove la farina diventa arte La, 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 la Il calore del ghiaccio. Terre d'Hermes, oggi vuoi. La tua pelle è incredibilmente morbida, così idratante, così fresca, così Nivea Soft. Fuori casa, come puoi avere più protezione dai virus? Con il nuovo Amukina Spray disinfettante per oggetti, ambienti e tessuti, più Amukina Gelix Germ per le mani. Più protezione al lavoro, più protezione nel tempo libero, più protezione in viaggio. Un'igienizzante rimuove in parte virus e batteri? Amukina Spray e Amukina Gelix Germ sono disinfettanti e li eliminano fino al 99,9%. Da Amukina, più protezione quando serve. Sono presidi medico-chirurgici, leggere attentamente le istruzioni d'uso. Da Angelini Pharma. Svegni il tuo laptop. Che bene si sta, ho chiuso tutti i file. Che bene si sta, non resta nulla da fare se non riposare. Che bene si sta. Innamorati delle tue labbra al primo tocco con il nuovo rossetto Red Touch da Deborah Milano. Texture morbida con olio di rosa nutriente. Ultra comfort, intensamente matte. Applicazione precisa. No transfer, long lasting. Nuovo rossetto Red Touch da Deborah Milano. Love at first touch. Una cosa è certa, ci sono giornate davvero dure. Ma con Regina Carta Camomilla hai la certezza di qualcosa di delicato per te ogni giorno. Regine, paper for people. YOLO. Sunny. Yesterday my heart was filled with rain. Sunny. You smiled at me and really caused the pain. All the bright days are done. The bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you I love you I love you I love you Asciugato Tu hai spiegato la mia cucina Quella più sperimentale Esco per le strade, tutta nuda, abbraccio un cavallo Sì, ma tu non capisci niente, sei un uomo basico Che basico? Tu lo sposi un traditore? Senti, io non... Perché quello è un traditore, tradirà anche te Che non me ne fega niente che ti sposi Monica, si sposa Io amo te, cazzo, lo capisci? A un certo punto le donne si vogliono semplicemente sposare Chi c'è c'è Chi c'è c'è Chi c'è c'è Il tuo gatto sterilizzato potrebbe perdere agilità? Aiutalo a restare in forma con Ultima sterilizzati Le nostre ricette sono preparate solo con ingredienti di alta qualità E da ora, con i nuovi Ultima Fit & Delicious Deliziosi e teneri filettini Prenditi cura del suo peso a ogni pasto Ultima, insieme per una vita migliore Fuori casa, come puoi avere più protezione dai virus? Con il nuovo Amukina Spray disinfettante per oggetti, ambienti e tessuti Più Amukina Gelix Germ per le mani Più protezione al lavoro Più protezione nel tempo libero Più protezione in viaggio Un igienizzante rimuove in parte virus e batteri? Amukina Spray e Amukina Gelix Germ sono disinfettanti E li eliminano fino al 99,9% Da Amukina, più protezione quando serve Sono presidi medico-chirurgici Leggere attentamente le istruzioni d'uso Da Angelini Farma L'Effe raddoppia il gusto L'Italia più bella è su Bell'Italia Inedicola è su Instagram Spoleto, la città che vive di arte Le chiese e i palazzi barocchi di Ragusa e Ibra Le imponenti terme di Caracalla a Roma E in più Bell'Italia ti regala lo speciale Dolomiti Estate Con tutti i consigli per viverle al meglio Editoriale Giorgio Mondadori Quando stai bene nella tua pelle non conta cosa indossi O quante ore hai dormito Per questo Leocrema ha pensato una nuova formula Che idrata fino a 48 ore Perché tu possa stare bene nella tua pelle Ancora di più Leocrema, amati nella tua pelle Sono appassionata di sostenibilità da molti anni Oggi sviluppo per Amazon progetti di energia rinnovabile Come questo Uno dei nostri più grandi impianti fotovoltaici in Europa Sono orgogliosa di contribuire a un futuro sostenibile No! Ehi ragazzi Niente paura con Advantix Con Advantix puoi proteggerlo dai parassiti E anche dal rischio di trasmissione di leishmaniosi E dalle larve di pulce in casa Anche in confezione da sei pipette Advantix La notizia passa di bocca in bocca Come come? La bocca sarà sulla bocca di tutti Perché? A maggio parte l'Oral Cancer Day Oh finalmente! Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale Oh! Fumo Eccesso di alcol Cattive abitudini alimentari e igieniche Possono provocarlo Ma è uno dei più curabili se preso in tempo Niente acqua in bocca Va bene! Fai un controllo dal tuo dentista Per prevenire il tumore del cavo orale Fondazione Andy Dai una mano alla salute della tua bocca Eccessiva sudorazione? Stanchezza? MGKVis Il primo con tre sali di magnesio organici Altamente assimilabili Faivis di energia Hanno trovato il cadavere di una ragazza Siete pronti a risolvere una serie di casi diabolici Architettati dalla regina del giallo Agatha Christie? Abbiamo a che fare con un grande criminale Questo non lo so Lampion Ma un buon poliziotto Deve sempre giocare d'anticipo Per l'orario dobbiamo aspettare il referto Diffidi da ciò che sembra troppo strano Little Marder Giovedì alle 21.30 Sulla 7D Gira la nuova Bexam Filtered E senti Ingredienti 100% naturali e nient'altro Bexam Filtered La bevi La senti Una cosa è certa Ci sono giornate davvero dure Ma con regina carta camomilla Hai la certezza di qualcosa di delicato per te Ogni giorno Regine Paper for people Innamorati delle tue labbra al primo tocco Con il nuovo rossetto Red Touch da Deborah Milano Texture morbida con olio di rosa nutriente Ultra comfort Intensamente matte Applicazione precisa No transfer Long lasting Nuovo rossetto Red Touch da Deborah Milano Love at first touch Gardenia è in edicola e su Instagram Un giardino all'italiana vicino a Firenze E un parco splendido con vista su Torino Le perenni con i colori dell'estate E in più con Gardenia puoi creare il tuo angolo verde di benessere Con la guida al giardino che fa stare bene Della Royal Horticultural Society Editoriale Giorgio Mondadori Fuori casa come puoi avere più protezione dai virus Con il nuovo Amukina spray disinfettante per oggetti, ambienti e tessuti Più Amukina Gelix Germ per le mani Più protezione al lavoro Più protezione nel tempo libero Più protezione in viaggio Un igienizzante rimuove in parte virus e batteri Amukina spray e Amukina Gelix Germ sono disinfettanti e li eliminano fino al 99,9% Da Amukina, più protezione quando serve Sono presidi medico-chirurgici Leggere attentamente le istruzioni d'uso Da Angelini Pharma Anche in Italia migliaia di persone vivono in condizioni di estrema povertà Non riescono a pagare le cure mediche, il cibo, la casa I Fatebene Fratelli con i progetti dell'AFMAL Aprono le porte degli ospedali e delle case di accoglienza Offrendo loro cure, riparo, pasti caldi e sostegno psicologico Aiutaci a migliorare la vita di queste famiglie Dona il 5x1000 all'AFMAL Il nostro lavoro La nostra missione Eccessiva sudorazione, stanchezza MGK-Vis Il primo con tre sali di magnesio organici altamente assimilabili Fai Vis d'Energia Il primo con tre sali di magnesio